L'azienda è iniziata nei primi del novecento, è stata fondata dal bisnonno, poi mio nonno insieme al fratello hanno portato avanti subito dopo la guerra, subito dopo la guerra, con i più classici dei servizi di allora, perché era l'ottuagatura e la trebbiatura. Poi in avanti il papà, il mio papà, e quando ho finito la scuola io ho iniziato con lui e da allora siamo io, il papà, il mio papà. Oggi facciamo tutte le lavorazioni sull'agricoltura conservativa, quindi minima valorazione, sodo e valorizzazione del digestato con diversi cantieri in azienda che gestiscono smaltimento, valorizzando il digestato. Il 70% del lavoro della nostra azienda è focalizzato su quel tipo di servizi, oltre alla raccolta e trattamenti in genere. La tradizionale, la tradizionale conservativa, l'agricoltura, è iniziato nel 95, il primo approccio nel 95 per quanto riguarda minima lavorazione. Dieci anni dopo nella nostra azienda non esisteva più un aratro e un'epice rotante. E già nel 97 i primi sistemi satellitari sulle trebbia, siamo partiti nel 97 come i primi sistemi di rafforza datico. Circa cinque anni dopo il mercato, abbiamo capito che il mercato grifonone era ancora un po' privaturo su questo tipo di servizio, allora abbiamo cercato di utilizzare questi sistemi per fare agricoltura di precisione all'interno nostro, nella gestione dei nostri cantieri. Quindi questi sistemi raccoglievano dati non solo agronomici ma anche dati per fare analisi costo e fatturazione. Noi da questo ufficio controlliamo le nostre macchine e aiutiamo i nostri dipendenti in caso ci siano qualche problematica sulle impostazioni della macchina. Queste sono le nostre macchine che oggi sono fuori a lavorare e da qui non riusciamo, riusciamo a collegarci e controllare, più che controllare, aiutare eventualmente i nostri operatori nel momento in cui ci siano dei problemi. Praticamente è un confine, questi confini sono abbinati contabilmente a un'azienda, alla fine del lavoro, scarichiamo i dati, quindi il dato viene scaricato, va in analisi costo o in fatturazione e al cliente arriva un report di quello che è stato eseguito nell'attezzamento con tutti i dati racconti. Avventirà proprio un modo di lavorare, si lavorerà così, basta. tutto quello che era vecchio nei prossimi anni penso che ormai sia finito questo modo di lavorare.